Infine, dopo tante parole, tante indicazioni, raccomandazioni, proposte di riflessione che in questi giorni sono state offerte, infine, o forse al principio, io vorrei invocare insieme con voi e per voi il dono della gioia, il dono di un ministero vissuto come una grazia che non è soltanto un principio trascendentale, ma che sia esperienza della gioia. Queste letture che abbiamo ascoltato insistono sugli aspetti faticosi del ministero, insistono sul sacrificio che il ministero chiede al buon pastore o al profeta, insistono cioè su tanti aspetti che voi, essendo tutti preti già sperimentati, conoscete bene che il ministero ha delle fatiche, che il ministero ha dei motivi di sofferenza, talvolta vengono dalle fatiche dell'annuncio del Vangelo, talvolta dipendono dalle difficoltà di relazione tra coloro stessi che annunciano il Vangelo, tra coloro che hanno responsabilità di elaborare le destinazioni e coloro che le accolgono. Cioè quindi queste cose voi le sapete già, avete già sperimentate e io quindi vorrei dire che l'unica cosa che chiedo in questo momento al Signore per voi tutti è la gioia, la gioia di essere preti, la gioia di essere cristiani, la gioia di essere in questa chiesa ambrosiana, la gioia di essere mandati nelle comunità che vi aspettano, la gioia di una appartenenza al Presbiterio che ci incoraggia, che ci educa, ci corregge, anche mettendoci alla prova, ma anche offrendo fraternità incoraggianti e consolanti. La gioia vorrei augurarvi, la gioia chiedo al Signore. La gioia cristiana, che non è la gratificazione dei risultati, non solo quella, tutti noi siamo contenti quando vediamo le cose che vanno bene, le risposte positive alle nostre proposte, però la gioia cristiana viene da una fonte più segreta, che è la relazione con Gesù, che è il lasciarsi condurre da Lui. E quindi in queste tre letture un po' impegnative, che indicano le condizioni piuttosto severe dell'esercizio del Ministero, raccolgo questa parola del Salmo, il mio calice trabocca. Cioè, il dono della gioia è esuberante. Ecco, noi dobbiamo fare tante cose, ma il motivo per cui le facciamo, cioè l'obbedienza al Signore, l'imitazione di Gesù, la sequela del Signore Gesù, è la gioia di essere Suoi amici. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi. Ecco, chiedo la gioia per voi. Come evidentemente io so, alcuni trasferimenti sono motivo di tristezza, alcuni distacchi sono faticosi, alcune comunità di abbrodo non sono forse così affascinanti come uno se l'aspetterebbe. Sono le condizioni nostre della vita, ma la gioia nostra viene dal fatto che Gesù riempie la nostra vita come le anfore di cana, il mio calice trabocca. È dunque un motivo di fede, sempre, solo la fede è quello che ci garantisce la gioia in ogni situazione. Ecco, questo chiedo per voi, questo luogo dove un uomo di fede, essendo con la testa fracassata dal colpo del sicario, Pietro da Verona, ha scritto, come si dice, con il suo sangue la sua professione di fede. Credo, credo che Gesù è il mio Signore. credo che Lui mi basta. Credo che Lui per me sia più irrinunciabile della vita stessa. Ecco, in questo luogo, in questo momento, io chiedo per voi, per me, per tutto il clero e il popolo di Dio, il dono della gioia. Particolarmente ai preti vorrei raccomandare la gioia. Vorrei raccomandare la gioia come un dono da ricevere, non certo come una facciata da esibire. e soltanto la gioia può mostrare alla gente che vale la pena di seguire Gesù e di servire la Chiesa. Viviamo anche un tempo in cui il numero di ragazzi giovani che chiedono di diventare preti si riduce visibilmente e noi non è che ci diamo tante colpe, prendiamo quello che il Signore manda. Però spesso mi domando se il mio modo di essere prete, il nostro modo di essere preti rivela con una certa evidenza constatabile che è bello fare il prete, che siamo contenti di essere preti. Mi immagino che un ragazzo, un giovane, se vede i suoi genitori scontenti, litigiosi, amareggiati, se vede i suoi insegnanti pessimisti, depressi, se vede i suoi preti preoccupati, arrabbiati. E io dico, ma questa generazione giovanile che voglia può avere di diventare adulti se gli adulti sono gente che sembra far passare la voglia di vivere. Questo si applica per tante cose, che gente, come si può avere voglia di sposarsi se quelli sposati sono sempre così complicati, difficili, litigiosi, malcontenti. Che voglia si può avere di diventare preti? Se i preti sono tristi, scoraggiati, arrabbiati, eccetera. Ecco, la gioia non è un artificio per attrarre qualcuno con l'arma della seduzione. La gioia è frutto dello spirito, ma credo che noi possiamo chiederla e riceverla. E questa, dunque, la parola che voglio consegnarvi. Siate lieti. Lieti. Perché chiamati da Gesù, perché amici di Gesù, perché destinatari delle parole di Gesù. e chiudere la missione,